Sette persone sono state arrestate con l'accusa di aver messo in piedi un giro di spaccio da 120.000 euro al mese. I carabinieri di Seregno infatti oggi sono riusciti a smantellare una rete di pusher di origine nordafricana che riforniva di hashish e cocaina le piazze dello spaccio monzese, in particolare i quartieri San Fruttuoso e San Rocco. Le forze dell'ordine hanno anche sequestrato oltre 5 kg di hashish, 750 grammi di cocaina e 12.000 euro in contanti, frutto di attività illecita. Sono stati anche segnalati 100 assuntori di sostanze stupefacenti. L'inchiesta di fatto era partita poco più di un anno fa, precisamente il 9 agosto del 2015, in seguito alla morte per overdose di un ragazzo 34enne a Seregno che era stato trovato senza vita all'interno della sua auto dopo aver assunto un quantitativo ingente di cocaina. Quella tragedia aveva indotto i militari a intensificare i controlli e ad individuare una rete di spacciatori che operava nei comuni brianzoli di Monza, Seregno, Meda e Seveso e in quelli milanesi di Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni e Magenta. I pusher, stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, erano tutti egiziani e venivano riforniti da un gruppo di marocchini. In manette però è finita anche una trentenne romena che è la compagna di uno degli spacciatori. Gli agenti sono riusciti ad individuare la banda grazie anche alle intercettazioni telefoniche, notando che il gruppo utilizzava per comunicare una serie di pseudonimi, come ad esempio ghiande e datteri, quando parlava delle varie tipologie di droga. La merce veniva nascosta all'interno di una serie di auto parcheggiate lungo le strade, con la collocazione delle vetture che veniva spesso cambiata per cercare di non dare nell'occhio. Alle sette persone finite in manette, che dovranno rispondere a vario titolo delle accuse di traffico e detenzione illecita di hashish e cocaina, si aggiungono due ulteriori ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di persone latitanti.